Ci troviamo all'interno del cortile dove sorge l'edificio di proprietà dei gesuiti in via Spaventa a Firenze, un edificio che quasi un anno fa, per la precisione gennaio 2017, è stato occupato da circa 130 somali, molti che sono arrivati dall'ex capannone Aiazzone che appunto prese fuoco e che lasciò purtroppo anche una vittima. Qui oggi è stata indetta una conferenza stampa da parte dei comitati del movimento di lotta per la casa perché è da tanto tempo, da anni, che la situazione per quanto riguarda l'emergenza abitativa ancora a Firenze non cambia. Quindi a questo punto che cosa succede? Il comitato vuole cercare, o comunque il suo disiderio è quello di avere un incontro con la prefettura e le istituzioni per cercare di cambiare il destino di circa 130 somali, tra cui anche 30 donne che vivono in Italia.